ciao a tutti allora benvenuti nel video delle scoperte del mese di settembre 2018 prima scoperta di questo mese è sicuramente queste strisce depilatorie viso della cn quindi il marchio dell'idol sono 24 strisce depilatorie più due salviette post depilazione all'aloe vera la profumazione fragranza ai frutti di bosco e il prezzo perché me lo sono segnata e di 1 euro e 39 allora sono queste qui allora devo dire intanto che ne ho tenuta per mostrarvela una metà perché le uso per i baffetti quindi si video molto trash comunque è la taglia metà apposta un colore rosa big bubble allora cosa dire di questo prodotto la rimettiamo dentro intanto che rimuove davvero tutto strappa bene e quindi rimuove in epoche passate che è una cosa ottima cosa negativa però assolutamente è che strappa fin troppo cioè è molto appiccicosa quindi vi consiglio magari di applicare sulla zona un pochino di borotalco poi con un pennellino si va a pettinare contro pelo poi si applica la aderisce solamente al pelo e non alla pelle e strappa molto meno perché sennò arrossa la pelle però per chi come me le usa solo per i baffetti quindi quelli chiari quindi una volta al mese più o meno le consiglio assolutamente perché il prezzo è buono se devo trovare un fatto negativo è che dentro contiene solo due salviette che non sono male però sono un po troppo oleose lasciano molto unto e poi sono grandi e come se fosse la dimensione da dal corpo se ce ne fossero un pochino di più e un pochino più piccole sarebbe il top comunque sia per il prezzo che ha sicuramente è un prodotto che come ho detto usato solamente una volta due al mese va benissimo secondo top e devo dire che questa è stata davvero una scoperta perché è questa crema che ho trovato per caso da tigota si chiama biolis nature crema corpo con aloe vera 98 per cento di ingredienti di origine naturale questa è quella idratante è prodotta dalla gottardo spa quindi proprio tigota è un made in italy quindi ottima cosa e l'inci è fantastico perché ha un solo pallino rosso ed è l'aroma quindi ok allora prezzo pieno 250 ml 2 euro e 99 quindi fantastica ve la mostro cosa dire intanto che ha tutte le certificazioni del caso quindi no animal ingredienti veg quindi vegan e 100 per cento da energia verde non so se è vero ma comunque la buona cosa scegliere questi prodotti la crema in sé a me è piaciuta tantissimo perché è leggera non lascia scia bianca anche se è un prodotto bio si stende molto facilmente e assorbe molto velocemente e non lascia la pelle appiccicosa l'ho finita in estate quindi in compenso però ha un buon potere idratante il profumo non mi ricordo si è leggero quindi è proprio idratante e basta e mi è piaciuta ho visto che ci sono delle altre varianti e le voglio provare assolutamente credo che un prodotto bio a un prezzo basso perché 2,99 per 250 ml io ve la stra stra consiglio ultima scoperta per questo mese è questo shampoo dell'ultra dolce quello con olio d'argan e mirtillo rosso adatto per i capelli colorati quindi questo qui allora cosa dire 250 ml prezzo l'ho segnato da tigotà 2,49 euro a prezzo pieno allora dice di essere adatto per i capelli colorati e l'ultra dolce ultimamente mi piace un sacco ha un profumo di mirtillo che è paradisiaco me lo ricordavo bene poi mentre la diamo i capelli resta anche nella doccia mentre con l'acqua calda e un pochino anche sui capelli quindi davvero ottimo dunque fa una bella schiuma si risciacqua facilmente pulisce bene non aggredisce il cuoio capelluto lasci i capelli morbidi e senza troppi nodi oltretutto ho notato anche una leggera funzione per protezione colore effettivamente perché ho fatto la tinta una volta invece di ogni mese l'ho fatta dopo un mese e mezzo ecco quindi forse un po' l'estate forse un po' perché tengo i capelli raccolti non lo so ma comunque sia mi è piaciuto anche per questo fatto e anche questo ve lo consiglio perché è buono e basta ha un buon prezzo e mi sembra un buon prodotto allora queste erano tutte le scoperte del mese di settembre come sempre fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile se vi è piaciuto il video mettetemi un like e seguitevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao